Sì, si sente? Quale? Quello a sinistra o quello a destra? Ma questo sarà un cane da pagliaro, come si dice nelle marche. Non lo so che cane è, un labrador? Quello a sinistra, secondo me, è un bradipo senza testa, con la testa di diamante. Un mostro che vomita matite. Che dici? Sento l'approccio. Sento l'approccio. Grazie. 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 Grazie.